ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video di minecraft se non avete visto la prima parte beh andatela subito a vedere dove ho creato un scp in realtà non è la prima parte è la seconda comunque ho creato un scp che è scpx lo volevo creare da tanto tempo che praticamente quando schiacci la pressure plate ti dovrebbe non voglio però per cento secondi per cento secondi non per un minuto per perché c'è la pia baddoman per 10 no ragazzi il mio scp funziona ragazzi l'scp appena schiaccio tra un'incursione funziona ecco ragazzi il mio scp non ha fallito però io non la voglio creare c'è ogni volta quindi posso creare un'incursione a volte e mi ha droppato un pezzo d'armatura no no mi ammazzano le pecore tu sei scemo no mi ammazzano le pecore incursione ma dai ragazzi la cibi funziona quindi io non posso evocare quanto voglio è troppo pericoloso ragazzi è troppo pericoloso ragazzi è troppo pericoloso ma veramente troppo dai ragazzi la cibi però funziona lo metterò di classe apollion perché praticamente una volta che l'hai schiacciata non puoi più rimediare ragazzi funziona ragazzi funziona ragazzi funziona ragazzi funziona dove sono però incursione devo cercarli eh sono qua vicino non li vedo e non li sento cavolo cavolo ragazzi è un brutto presentimento il pegame scp funziona cioè è di classe apollion siamo molto felice che funzioni ragazzi dove sono è sparita qua Però rientra qua Allora Non so dove sono Dai ragazzi Dobbiamo trovarli Eccoli Tu stupido Pillager dove vai Quando ci devono entrare Il mio tempio capito Tu devi far silenzio Una balestra Quanto ce l'aveva? Pochissima durabilità Perché vengono sempre con pochissima durabilità? E' un pillager Signora pillagero Ok? Che tu le rimaste due Dovrebbero essere andate Cogiorni Giorni Toc toc Aspetta Giorni Toc 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 Chi è? E' l'assassino Che vuole fermarsi In cursione Questo SGP mi sfugge di mano Cioè mi ha sfuggito di mano E posso evocare quante ne voglio Ragazzi questo SGP è troppo forte Ecco In cursione Che tu le rimaste è una Ciao ragazzi Ciao ragazzi E' troppo forte E' troppo forte Cioè non figo E' E' Che è figo però Lo rinomino Apollyon oh posso scrivere un fascicolo che è successo che quello che l'ha creato è successa una cosa prima voleva essere safe euclid perché lo dà per 10 secondi ma invece ora è peggio di cater ragazzi non è possibile è peggio di cater ecco da qualche parte l'incursione dov'è carlo si è salvato dov'è ecco è lui è lui muori muori stupido dove sono gli altri oh ma sono tutti villager che ci sono oh un altro villager ma perché sono qui villager villager signor villager solo due creature e ravager 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 l'ultima creatura l'ultima dovrebbe essere un pillager o qualcosa del genere l'ultima creatura l'incursione è durata così poco ma certo lo so per 10 secondi ragazzi però l'SCP potere evocare punto l'SCP 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 P L'SCP 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 e Apollion 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 per che quello che l'ha creato il al al padrone padrone gli è sfuggito 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 aspettate ragazzi un secondo che vado a chiedere una cosa di assistente ok sono tornato sfuggito gli è sfuggito di mano di ma no e l'SCP dovrebbe essere fatto però però l'incursione l'incursione è breve ma manda una bestia ma manda una manda un bestione bestione l'incursione 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 oh calore ragazzi abbiamo fatto il fascicolo non so se è completo l'incursione 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 e i ne puoi evocare punto non posso più scrivere di Iacotep secondo di Iacotep secondo è ovvio che è di Iacotep secondo Ia co te i i i i iacotep spazio secondo inserisci il titolo fa i colo colo di e i i go su ok il fascicolo X è fatto ragazzi ora però dove lo mettiamo il fascicolo X contro la cella però non ci sono scaffali allora però la cosa che devo fare è fare un altro scp facciamo mettiamo un ison frame no mettiamo una cassa mettiamo una cassa ho dovuto io stesso che l'ho creato combatterlo fermarlo va bene questo scp è pericoloso fai tutto che la scp è meglio cioè il fascicolo è meglio che lo metta fuori che lo metto fuori ok il fascicolo X è fatto però ora nel momento che dovrei finire il video ne fai un altro quindi non c'è nulla da fare abbiamo creato la scp l'urlo di minecraft che praticamente è un quadro di edward munk edward munk edward munk è un gran pittore che ha fatto l'urlo di munk e io ho creato l'urlo di munk minecraftizzato ecco qual è il titolo infatti in questo esatto momento sto caricando non questo video che sto facendo ora ma l'urlo di munk e guardate comunque come riesco a volare guardate entro nell'alveare guardate le immagini di uno che non conosco che ha esaltato lui mi potrei prendere la legna ma che c'è scritto? entra nell'alveare ma dai ragazzi si può entrare nell'alveare e che cos'è questa scalinata? quindi dovrei attraversare il muro? ma non ci penso nemmeno oh sono con un ape però se tolgo questi scommetto è cato noi non lo facciamo oh mamma mia with a rose quindi posso come faccio a prendere miele? eh ragazzi poi ci saranno altri effetti speciali che vi farò vedere quindi per oggi è tutto ci sentiamo in un prossimo video e ciao ciao